vi ricordate di quest'uomo ancora due paroline semplici semplici urbi e torbi un tocco ora è tornato ma non è più solo scuri tirate fuori superman o gli ultimi metri ve li fate a rana va bene scusso posso farti una domanda un poco intima hai delle cartine da questo natale vuole queste sigarette ti consiglio di tirare lentamente queste sono biologiche ed ecocombattibili ma non sono in balto zero no tutto cambierà sia qui per presentare un evento senza precedenti la secessione morbida lo stivale diventa moccasino e niente sarà più come prima lei semplicemente è omosessuale il 13 dicembre io pensavo che soffrissi di solitudine arriva il vostro nuovo film di natale sono un escort no grazie ma io io avevo proprio bisogno di un troione le tre schegge impazzite vanno fermate in fretta li avevamo sottovalutati lei è un razzista come si fa a integrare bianco e nero lei li vorrebbe dei figli grigi sto finendo di registrare il disco nuovo sono solo indeciso per il titolo secondo te è meglio amore all'alba oppure amore al tramonto è più sincero amore a pagamento un poeta gradisce l'appartamento fumatori o non fumatori ma cosa mi scusco c'è una convention della simpatia piuttosto rinuncio al bagno se c'è un cammino abitabile non posso accenerare dato quello è il mio appartamento antonio albanese fa te il cazzatore antonio albanese e antonio albanese tutto tutto niente niente sai che sei simpatico ti sei fumato i due artisti ai computer dal 13 dicembre al cinema